Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisi è andata in onda ieri sera in diretta sui canali 11, 12 e 112 di Telemolisi è andata in onda Telemolisi nel cuore Gran Galà di Domenica Sport una serata dedicata al Made in Molise artisti sportivi, personaggi del mondo del sociale e una memoria, tutto questo in quattro ore di diretta dal salone delle feste del ristorante Coriolis che cosa dire? Io devo soltanto ringraziare tutte le persone stamattina appena praticamente ho attaccato il cellulare non ho fatto altro che rispondere al telefono tantissimi consensi anche da parte della gente più disparata veramente deve essere stata una cosa che ha colpito nel cuore tutti coloro che l'hanno seguita sia dal Coriolis ma anche da casa e questo mi fa particolarmente piacere perché il senso della manifestazione di ieri sera doveva essere proprio quello di puntare i riflettori sul Molise che lavora, sul Molise produttivo più di tante storie, di tante beghe da caffè che si verificano tutti i giorni la gente è stanca di sentire di verbi politici, rimpasti la gente vuole lavorare e quindi il messaggio è stato recepito io vi ringrazio tutti quanti, tutti coloro che hanno voluto esprimermi davvero soddisfazione direttamente ma adesso vediamo il servizio Sorrisi, lacrime, nuove conoscenze è stata un mix di emozioni la trasmissione Telemolise nel cuore Gran Galà di Domenica Sport lo avevamo annunciato sarebbe stata una trasmissione per celebrare il Medi Molise in tutti i sensi premiazioni e spettacoli che hanno caratterizzato quattro ore di diretta non solo in Molise ma anche in Abruzzo, Lazio e con la diretta streaming in ogni parte del mondo apertura dedicata alle società abbiamo individuato sei club che con passione e sacrificio rappresentano il Molise a livello nazionale ed anche europeo in ordine sono state premiate la nuova atletica Esernia con il presidente Agostino Caputo poi il spazio a Pasquale De Filippis numero uno della polisportiva Santi Pietro e Paolo di Termoli Guglielmo Mascioli è salito sul palco per ritirare la targa del centro M2 di Campo di Pietra ancora Esernia Football Club con il presidente Mazzocco e del suo staff Società e Tecnico Luigi Iacampo con la società Molise Racing ha ricevuto il nostro riconoscimento insieme a Martina Iacampo campionessa europea di slalom e per finire Leacli Campobasso oggi diventata una polisportiva con Marco Meo e Michele Tommasino che hanno ritirato il premio tutte società che in maniera differente ma con la stessa passione e determinazione riescono a portare il nome del Molise in tutto il mondo nella seconda fase spaziano alcuni sponsor che da anni sostengono la nostra emittente la ditta Campopiano ha ritirato il premio il titolare Michele Campopiano la centrale del latte caseficio Sassano con il responsabile marketing Tiziana Castaldi Paolo Di Biasele la ditta Fresco Gelati Gelindo è intervenuto durante la premiazione Harlem Design di Nicola Lembo e ancora la ditta Campitello Matese momento particolare, emozionante con i tre premi alla memoria, tre uomini che in maniera diversa ma nello stesso modo resteranno per sempre nei ricordi dei molisani Mario Palma, l'imprenditore di Castropignano con il Molise nel cuore ha costruito l'hotel Palma Costa Gioiosa e oggi la moglie Carmela Luciani e il figlio Roberto proseguono nel loro lavoro l'uomo che combatte non perde mai e noi abbiamo attribuito a Vincenzo Cosco il nostro premio personale la scomparsa del tecnico di Santa Croce di Magliano ha segnato il movimento sportivo molisano e non solo sul palco la moglie Silvana con i figli Gaia e Luigi l'ultimo premio alla memoria al presidentissimo Antonio Molinari che ha fatto vivere a Campobasso cinque anni indimenticabili di Serie B presente in sala la famiglia Molinari con la moglie Maria Elisa e le figlie Barbara e Giovannella che hanno condiviso con noi della redazione e tutti i nostri telespettatori il ricordo di Antonio Molinari abbiamo premiato le società sportive ma non potevano mancare i riconoscimenti individuali ad alcuni personaggi del mondo dello sport Carmine Dato presidente del gruppo sportivo Virtus Antonio Ionata numero uno dell'Isernia a calcio a cinque tecnico della nuova pallavolo Campobasso Lucia De Soccio al giovane presidente dell'Aia Molise Alessandro Petrella e per finire a Piero Di Cristinzi presidente della FIGICI Molise fino ad ora abbiamo parlato di personaggi società e imprenditori conosciuti nel Molise ma ci sono tanti personaggi che si sono distinti nel mondo e non hanno mai dimenticato le loro origini Giovanni Trivisonno attore e comedrografo con 40 anni di carriera sulle spalle e ancora tanta voglia di andare in scena padre Raffaele frate Cappuccino missionario in Chad che ha trascorso 37 anni in Africa ha costruito scuole chiese impianti sportivi insomma ha rivoluzionato un territorio ed è originario di Macchia Valfortore il terzo riconoscimento a Giovanni Ramacciato medico chirurgo di Campobasso una carriera ricca di soddisfazioni oggi è direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale di epatobilio pancreatica all'ospedale Sant'Andrea di Roma ma ha trascorso 15 anni a New York il suo nome compare in più di 350 pubblicazioni internazionali di medicina oncologica solo alcune delle sue soddisfazioni personali un grazie va anche a Silvano Ciccarella che ha coniato la statuetta di Telemolise nel cuore collaboratore della redazione sportiva da anni ma soprattutto maestro artigiano che da 40 anni porta avanti anche lui con passione e sacrificio la sua azienda i momenti delle premiazioni sono stati intervallati tutti da momenti di spettacolo con gli Antonio Magic la scuola di danza arabesque diretta da Irene Fratangelo il soprano Laura di Rito circolo musicale mascagni onlus di Ripalemosani Simone Sala trio con Simone Sala al piano batteria Oreste Sbarra e al basso Pierluigi Barbato e per finire la polifonica Monforte sul palco il direttore Antonio Di Lallo ha avuto il piacere di ritrovare al suo fianco Erika Mastropietro per 16 anni al fianco del direttore ed Annalisa Ciarlante che ogni domenica è in onda con Domenica Sport senza dimenticare Tabita Morgese e Benedetta Fazio se questo è ciò che è andato in onda vorremmo ringraziare in maniera particolare l'editore Quintino Pallante che anche quest'anno ha dato carta bianca al direttore della testata giornalistica sportiva per organizzare questo show e ha messo a disposizione una tecnologia all'avanguardia e quindi il nostro grazie va a tutti i tecnici della redazione di Telemolise per l'allestimento e scenografia alla MTM di Gian Claudio Piedimonte e Music Store di Fabrizio Potenza e all'Euroflora per l'abito e per il trucco vanno ringraziati per Erika Mastropietro Rossana Boutique mentre per Annalisa Ciarlante Benedetta Fazio e Tabita Morgese la boutique Luna Mora senza dimenticare Mario Kip Parrucchieri e il centro estetico Essence un grazie va anche al fotografo ufficiale della testata giornalistica sportiva di Telemolise Gino Calabrese va al CB Live e al quotidiano del Molise che hanno dato ampio spazio alla trasmissione Telemolise nel cuore Gran Galà di Domenica Sport la serata si è conclusa con un momento conviviale la centrale del latte caseificio Sassano la pasticceria Dolce Napoli il ristorante dell'hotel San Giorgio la Diorio S.p.A. il panificio Sorelle di Vito la Campi Valerio azienda Vidincola lo lasciamo in chiusura ma un grazie particolare e affettuoso va alla famiglia Damiani al ristorante Coriolis che anche quest'anno ha ospitato la nostra emittente Calcio di Serie D preparano la sedicesima di campionato penultima del girone d'andata nonché del 2015 le tre molisane per il mercato settimana caratterizzata dalle cessioni ma il Campobasso ha effettuato anche un nuovo acquisto Il Campobasso ha raggiunto l'accordo con il centrocampista classe 93 Alessandro Rinaldi svincolato dal Como si tratta di un mediano mancino è il primo tassello della ricostruzione di dicembre in Casa Rosso Blu ovviamente non sarà l'ultimo perché bisognerà intervenire ancora sul reparto di centrocampo ma pure in attacco in maniera incisiva e senza possibilità di sbagliare Rinaldi sarà a disposizione già dalla imminente gara interna contro i marchigiani della Folgore Veregra che nelle gambe hanno i 90 minuti intensi dell'Angelini di Chieti costati alla squadra di Monte Granaro la quinta sconfitta stagionale il Campobasso ha l'obbligo sancito di tornare al successo interno prima del derby di Isernia con il quale si chiuderà l'anno solare Favo punta alla seconda vittoria della sua gestione plausibile che il Campobasso di domenica a Selvapiana abbia un aspetto molto simile a quello che ha espugnato il Fadini di Giulianova la difesa potrebbe rivedere il ritorno di Corbo a destra anche se è presente un vero e proprio ballottaggio con le noci che bene ha fatto sul campo abruzzese domenica scorsa in attacco le pedine sono contate con Todino, Aquino ed Alessandro via Fiore in settimana è giunto Rinaldi si avranno a disposizione pochi rincalzi senior in una panchina che si annuncia anche domenica ricca di elementi della Juniors per la cronaca l'ex Campobasso Bucchi è stato tesserato dal San Nicolò l'Isernia viaggia alla volta di Ascoli per giocare contro il Monticelli i bianco celesti cercano un colpaccio in esterno anche per fare il paio con il bellissimo rendimento casalingo che parla di 5 vittorie due pareggi e soltanto una sconfitta fuori casa l'unico sorriso rimane quello di Giulianova ad inizio campionato poi due pareggi e quattro sconfitte rimane abbastanza datata l'ultima vittoria interna del Monticelli risalente allo scorso 25 ottobre contro l'Avezzano l'Isernia può cavalcare proprio questo fattore di debolezza degli avversari che ultimamente sono abbastanza abbonati al pareggio ad ogni modo De Bellis confermerà tra i pali il neo arrivato Capozzi rivedrà Pepe dopo una lunga assenza per infortunio probabile una partenza dalla panchina per lui e se possibile il tecnico bianco celeste avrà dalla sua un panico motivato all'ennesima potenza per tagliare il traguardo dei 100 gol con l'Isernia a tale obiettivo mancano solo tre reti per l'attaccante napoletano l'Agnone affronta la seconda trasferta consecutiva agli alto molisani tocca il San Nicolò dei neo arrivati Bucchi e Chiacchiarelli operazioni di mercato ne hanno effettuate anche Granata via il difensore Cosso del centrocampista Lezcano arriva proprio il mediano Manzo per l'Olimpia sarà una verifica dopo la sconfitta pesante nelle proporzioni ma anche preventivabile di San Benedetto nel Tronto siamo prossimi al giro di Bo all'incontro di cartello della sedicesima giornata è senza dubbio Chieti-San Benedettese ma la stessa gara tra Matelica e Fano è densa di significati per l'alta classifica in chiave salvezza ha un peso rilevante Castelfidardo Amiternina mentre Fermana Recanatese è a buon diritto un incontro tra alcune delle delusioni del campionato Campionato Juniors Nazionale preparano l'ultima del girone d'andata le tre molisane la capolista Campobasso farà visita alla Folgore Veregra turno di riposo per l'Olimpia Agnonese Liserni ospiterà la San Benedettese a proposito della squadra Bianco Celeste Esposito Esposito dunque una buona partita giocata da voi però insomma il finale non vi premia resta comunque l'orgoglio di aver offerto una buona prestazione Sì abbiamo dal primo minuto abbiamo giocato bene facendo girare la palla in ottime condizioni però se non siamo concreti ci manca solo di essere concreti un po' sottoporta va bene pensiamo già alla prossima partita di sabato prossimo va bene così insomma devo dire siete un'ottima squadra e state disputando un grande campionato va bene sì sì stiamo facendo un ottimo campionato sin dalla prima giornata e i punti cioè come dire avete voglia insomma di continuare a crescere ogni partita cresciamo partita ogni partita questo ecco è un livello comunque diciamo buono per le squadre che si trovano in testa ma anche il livello del campionato dunque è anche un motivo sicuramente di crescita per tutti voi va bene sì soprattutto per la maggior parte che è la prima esperienza che la prima esperienza nazionale che fa per essere sesto in classifica significa che abbiamo un grande cuore un grande carattere e stiamo costruendo questo gruppo che mi fa molto piacere di farne parte ciclismo domani il circolo della Vila di Termoli ospiterà la festa del ciclismo regionale alle 16.30 si svolgerà la classica cerimonia di fine stagione organizzata dallo staff del presidente Belpulsi calcio a 5 fermo il campionato di serie B si scende regolarmente in campo in C1 e C2 vediamo le grafiche campionato di serie C1 undicesima giornata di andata Bonnefro Camarin circola la nebbia Fuzza Lisernia Mickey Mike Sant'Elena Santimotio Atletico Bisaccia Saracena Emegros Campobasso Santa Croce del Sagno Arcadia Termoli Venafro Virtus Sestese C2 ottava giornata di andata Capracotta Fossaltese Cerce Maggiore Conca Casale Faiveroc Caravindola Roburagnone Fuzza L'Acqua Viva Virtus Castelpagano Riccia Castel del Giudice Sporting Casal Nuovo Isernia Fuzza Campionati regionali di eccellenza e promozione siamo alla sedicesima che si apre domani con gli anticipi Tornando in campo le eccellenze e la promozione per la sedicesima giornata di campionato sono sei le gare in programma Allo stadio Cantelmo il comprensore Veirano attende la visita del Campobasso 19-19 ospiti che nell'ottima giornata hanno osservato il turno di riposo i padroni di casa arrivano alla partita con il morale a terra dopo la terza sconfitta consecutiva contro il Venafro il comprensore Veirano deve necessariamente guardare avanti all'ingrocio salvezza di domani con il Campobasso 19-19 Condurrà ai 90 minuti Cosimo delle Carpini della sezione di Sernia Il Real Montenero ha dimenticato il K.O. di Alife superando per 2-1 il Casanuovo Monterotaro sempre più fanalino di coda Per i monteneresi ci sarà una trasferta complicata perché ad attenderli c'è un sesto campano con il vento in poppa e in ottima forma Terzo successo consecutivo sesto turno senza K.O. con una serie fatta di 4 vittorie e 2 pareggi Il direttore della gara sesto campano Real Montenero Maurizio Barbiero di Campobasso Il Pietramonte Corvino dopo 2 pareggi e la sconfitta con il sesto campano 1-4 è in cerca di vittoria e non ha alcune intenzioni di fermarsi ancora I ragazzi di Maiellaro giocheranno ospiti tra le mura del Cannarsa in casa del Termoli adesso quinto in classifica con 27 punti I giallorossi sono stati impegnati in settimana con i quarti di finale di Coppa Italia contro il Venafro Reduci in campionato al pareggio con la Cliternina che tutto sommato può essere considerato un buon risultato ora i padroni di casa cercheranno di concentrarsi il più possibile sulle ultime due sfide da giocare prima della pausa natalizia arbitrerà il match Simone e lo strato della sezione di campo basso Passando in promozione la Boise Yeltsin e Talzilembo dopo il pareggio dello Spinete proverà a ripartire ospitando sul proprio campo di gioco il Castel Mauro ospite un posto di giri ma per aver ritrovato risultati in campionato per il Castel Mauro adesso le possibilità di ripresa passano da una trasferta molto difficile come quella sul campo dello Ieltsin quarto in classifica direttore della gara Pasqualino Amato di Termoli l'FVP Matese penultima in classifica con 14 punti al desisto e bianco-verde guidati da Di Buccio ospiteranno il Rea San Martino per una gara da non fallire per alcun motivo al mondo dopo la batosta di Cercia Maggiore e il pareggio con il Carullo i San Martinesi tenteranno di riportare il sorriso cercando di portare a casa l'intera posta in palio darà il via all'incontro Sebastia Ambruscino delle sezioni di Campo Basso infine sempre domani è prevista una sfida di bassa classifica tra Carullo e Torremagliano dopo due pareggi consecutivi per gli ospiti bianco-rosi è arrivato il primo successo di maniera particolarmente netta contro un Cerce Maggiore che ha interrotto a due la serie di successi consecutivi per i Santa Crocesi così la classifica inizia ad avere contorni più stimolanti con la salvezza diretta distante qualche punto ed il confronto di domani a Sant'Angelo da Lifa in casa il Carullo che potrebbe essere un'occasione di ulteriore sorpasso la partita sarà arbitrata da Pasqualino Fattore di Sernia terzo impegno nel giro di una settimana per il Venafro bianconeri rai d'uscita anche dal turno di Coppa domenica faranno visita al Gambatesa ne abbiamo parlato con Riccitiello Filomeno Riccitiello sicuramente indiscusso protagonista della partita ma tutto sommato bella affermazione da parte di tutto il gruppo ti aspettavi comunque di cambiare in modo così invigorito la partita? no vabbè uno quando entra cerca comunque di dare il massimo poi se viene il gol viene l'assist è tutto riguaragnato però comunque si cerca di fare il massimo quando si viene chiamato in causa ecco dopo un avvio ma al destro un po' di stagione complice anche i problemi fisici adesso sembra che avete recuperato sì abbiamo recuperato qualche giocatore importante quindi cercheremo di ottenere sempre il massimo risultato ogni domenica che proseguo di campionato ti aspetti adesso di sicuro c'è una bella lotta al vertice ma anche per i playoff sì sicuramente il nostro obiettivo principale è quello di arrivare più alto possibile poi abbiamo l'obiettivo infrasettimanale con la Coppa Italia quindi lottiamo su più fronti e speriamo bene perché abbiamo un ottimo gruppo un ottimo allenatore un'ottima dirigenza un grande tifo i tifosi ci seguono dappertutto quindi cercheremo di dare soddisfazioni a tutti ecco per quanto riguarda invece la lotta al campionato quali squadre avete favorite? dopo il mercato di dicembre vedremo perché adesso sono tutti i cantieri aperti quindi è difficile stabilire la squadra almeno sulla carta che è la più forte vedremo appena si chiuderà il mercato in campo domani il Castelmauro ospite della Bois Ielsi ai nostri microfoni Palazzo Giuseppe Palazzo difensore del Castelmauro quanto è importante vincere in casa avete realizzato il gol del 1 a 0 poi siete andati un po' in sofferenza come accade spesso in questa stagione ma questa volta è andata bene si è proprio passando una vittoria in casa in questo campionato cioè questa è la seconda vittoria che facciamo e quindi dobbiamo continuare così perché andrà bene sicuramente il nostro proseguo del campionato Qual è il tuo pensiero sul nuovo acquisto Ferrandi? Lui è un bravo ragazzo già si è integrato nel nostro gruppo e quindi penso che lui è anche un bravo giocatore deve mettersi un po' in forma perché comunque è da un po' che non fa allenamento e sì per me è un bravo giocatore quindi non dovrebbero esserci problemi nel farlo integrare nel gruppo benissimamente penso che sia dobbia tutto bene Ultima trasferta di questo 2015 per lo Spinete che domenica farà visita al Roseto Matesini in risalita in classifica Siamo con Michele Diamante capitano del Spinete questo è il quarto risultato utile consecutivo dal cambio di panchina venivate da tre vittorie consecutive possiamo dire una boccata d'aria in classifica sì per come eravamo partiti sì una boccata d'aria poi con il cambio del mister stiamo andando un pochettino meglio abbiamo cambiato qualcosina un po' il modulo un po' qualcosina poi si sa quando cominciano a venire dei risultati positivi è tutto più facile domenica Roseto campo difficile un po' per tutti sì quando si va fuori casa è sempre difficile poi Roseto sta in piena lotta playoff quindi sta lì a 3-4 punti insomma noi dobbiamo andare lì per vincere perché il nostro obiettivo è quello di fare 35-36 punti il prima possibile per salvarci specie dopo le prime 4-5 giornate che eravamo ultimi adesso stiamo respirando un po' vediamo a marzo dove ci troviamo e poi diciamo le somme Matteo Varanese mister dello Spinete sei andato a Spinete prendendo una situazione un po' particolare 9 punti dopo più di 10 partite adesso siete al doppio dei punti con poche partite sì va bene ma questo non è merito solo mio è merito della squadra pure perché i ragazzi stanno praticamente ricevendo quello che è il mio credo il mio credo è giocare a calcio lavorare e pian piano risalire la china per arrivare alla soglia di tendenza 6 punti che è la salvezza poi dopo puoi giocare a calcio diversamente però adesso devi fare questo la prossima trasferta importantissima uno scontro possiamo dire salvezza contro il Roseto un Roseto che soprattutto sul proprio difficilissimo campo sta trovando i punti necessari per la salvezza il Roseto è una squadra che lotta per la promozione il Roseto è una squadra vera non è una squadretta il problema è più che altro il nostro noi dobbiamo trovare la quadra se giochiamo con l'intensità giusta con la cattiveria e ci rientrano un po' di infortunati può darsi pure che riusciamo a giocare diversamente da quella che è la nostra metodologia di calcio perché pure oggi siamo arrivati là davanti però poi eravamo inconcludenti dobbiamo recuperare gli infortunati per poter arrivare bene davanti alla porta e quindi mettere la palla dentro basket divisione nazionale B domenica per la dodicesima giornata Iserni e Venafro entrambe con il favore del campo rispettivamente contro Palermo ed Empoli palla 2 alle 18 in Cisilver domani l'NBC al Palavazzieri arriva l'Ortona sul parquet alle 18.30 il Termoli domenica alle 18.30 ospite del Torre dei Passeri nuoto terzo posto nella classifica squadre su 47 società partecipanti per la squadra M2 Master impegnata a Pozzuoli nel secondo trofeo Flegreo Memorial Leone gara valida quale tappa del campionato nazionale Super Master di nuoto campionato di prima categoria la prima parte della stagione sta andando in archivio e per il quartiere Campobasso Nord il bilancio è positivo abbiamo avvicinato il presidente Roberto Di Mella presidente del quartiere Campobasso Nord successo importante con il Real Gildone che dà un senso alla continuità di questi risultati una squadra che chiaramente punta ed è stata costruita per il vertice veramente abbiamo una squadra costruita già da molto tempo i nostri obiettivi sono fare un buon campionato e stare in alto in classifica non soffrire fino alla fine in basso e la partita di oggi è stata una buona partita anche anche se eravamo un po' rimareggiati però tutto sommato è andata bene e questo ci conforta abbiamo avuto un inizio disastroso diciamo perché le prime tre partite le abbiamo perse tutte e tre però adesso pian piano la squadra si sta ricombattando e ci stiamo riprendendo speriamo che questa serie positiva continui per tutto il campionato una squadra costituita per lo più da giovani con qualche elemento esperto quindi un mix davvero indovinato sì diciamo che il blocco che avevamo già da quando è stata costituita questa società è rimasto ogni anno incrementiamo con qualche ragazzo giovane e anche qualcuno più anziano e questo ci dà la soddisfazione e speriamo di migliorare con questo mix un pensierino a playoff ce lo fate? ce lo facciamo sempre anzi noi ci fa piacere sia per la società per il quartiere e per i ragazzi se riusciremo a vincere il campionato più per loro che per noi come società prepara la gara con l'Altilia Samnium il Real Gildone sul momento della squadra abbiamo intervistato il portiere Giannunzio Magnifico Giannunzio Magnifico portiere del Real Gildone sconfitta pesante sul campo del campo basso nord avete sofferto un po' la loro velocità avete provato a riaprirla negli ultimi minuti ma non è bastato si è vero è stata una bella partita una partita bella aperta due squadre che comunque abbiamo provato a giocare a pallone entrambi loro sono stati più aggressivi di noi noi abbiamo fatto qualche errore di troppo l'arbitro ci ha messo del suo ha condizionato con diverse decisioni sia i nostri difensori con delle ammunizioni gratuite e non ha dato peso ai loro falli però senza togliere meriti al quartiere nord e senza togliere i demeriti nostri purtroppo che sono stati tanti perché abbiamo fatto qualche errore di troppo che non è di solito nelle nostre usanze diciamo noi siamo una squadra totto me giovane quindi comunque ci siamo trovati è stata molto molto cambiata rispetto all'anno scorso però comunque ci divertiamo il nostro obiettivo è quello in casa abbiamo un approccio diverso rispetto alle partite esterne però speriamo che nel corso del campionato miglioriamo infatti una sconfitta che conferma un po' il mal di trasferta peccato perché una squadra che si esprime bene in casa l'hai appena detto tu bisogna trovare una continuità di rendimento per raggiungere i primi posti sì è quello che ci manca alterniamo la vittoria in casa la bella prestazione in casa a una prestazione opaca in trasferta dall'inizio del campionato quindi non riusciamo a concretizzare il gioco che facciamo non so se un po' di timore reverenziale fuori casa oppure l'approccio dalla squadra di casa poi oggi è una squadra molto organizzata quindi un centrocampo forte veloce quindi abbiamo sofferto anche un po' di più rispetto alle altre trasferte dove abbiamo perso comunque complimenti a loro e speriamo in noi nelle prossime trasferte calcio femminile domenica in programma la nona d'andata nel torneo di Cia Bruzzese scontro diretto al Marco Vitantonio di Ripalimosani tra il Ripalimosani e l'Aquilano entrambe a tre punti bene era l'ultima informazione per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio grazie a tutti